Ciao, привет, hello e benvenuto sul mio... che cos'è? Io mi chiamo Sydney e in questo momento della mia vita sono un'insegnante di lingue, una traduttrice e un'attrice. Potresti avermi già vista in dei video per bambini dove do la voce a Peppa e George, oppure potresti avermi già vista e conoscermi per il blog russaliana che ho ottenuto per alcuni anni e che poi ho temporaneamente chiuso. Forse potreste anche avermi riconosciuta se sei della provincia di Salerno o di qualche altra regione e circa 12 anni fa hai visto degli spettacoli della compagnia stabile Città di Mercato San Severino. Se legi la descrizione di questo canale c'è scritto lingue, luoghi, persone, perché voglio provare a raccontarti delle storie usando tutte le lingue e i modi che conosco. Qui troverai i miei self tape, monologhi, canzoni, video di viaggi, forse interviste a gente comune in Russia o in altri paesi che visiterò, cose interessanti sulla vita quotidiana in altri paesi o semplicemente nella mia vita. Se vuoi saperne di più iscriviti al mio canale e accendi le notifiche. Ciao!